La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Pittella, presentata a seguito dell'inchiesta giudiziaria sul petrolio in Basilicata dai consiglieri regionali Perrino, Leggeri, Napoli, Castelluccio e Rosa, è stata respinta dall'Assemblea regionale a maggioranza. Durante il dibattito sono emerse due posizioni contrapposte. Da un lato chi chiedeva la sfiducia, motivandola con le responsabilità politiche del Presidente della Regione. Dall'altro le forze di maggioranza, pur ammettendo che qualcosa non ha funzionato, hanno evidenziato l'esigenza di un percorso di unità per ricostruire il rapporto fra istituzioni e cittadini. Il Consiglio regionale, sempre in materia di estrazioni petrolifere, ha approvato a maggioranza la mozione presentata dai consiglieri Mollica e Pace e sottoscritta anche da Cifarelli, Santarsiero, Robortella, Giuzio, Bradascio e Pietrantuono. Nel caso venga riconosciuto e provato il danno ambientale, si chiede al Presidente della Giunta di costituirsi parte civile, che utilizzi l'eventuale risarcimento per risanare territori compromessi e istituisca una commissione di inchiesta. Tra gli impegni richiesti anche quello di riformare il sistema dei controlli, aggiornare il registro tumori e accelerare l'espletamento delle indagini epidemiologiche avviata sulla popolazione. Una posizione di forte contrarietà rispetto all'azione politica del Governo regionale in tema ambientale è venuta dai rappresentanti delle opposizioni. Il Presidente Pittella, hanno detto Leggeri e Perrino, è corresponsabile di quanto accaduto in Basilicata. Il Governo, ha rimarcato Rosa, non ha esercitato in pieno le sue prerogative sulla tutela della salute e dell'ambiente. Per Benedetto, noi Lucani siamo vittime di un sistema. È indispensabile chiarire tutti gli aspetti legati allo smaltimento dei rifiuti di Tecnoparco. Romaniello ha auspicato una graduale fuoriuscita dall'economia del petrolio perché non ci sono benefici per il territorio. Della stessa opinione anche Mollica, che nel confermare la sua contrarietà alle fonti di energia fossile, chiede che la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti in corso per i danni ambientali e per i danni d'immagine. C'è bisogno di regole certe e severe e di istituzioni decise ad applicarle, ma serve soprattutto una diffusa e costante intransigenza morale di tutti i cittadini, che contribuisca ad innescare un circolo di buone pratiche e di virtuosi. Lo ha detto il difensore civico regionale Antonia Fiordelisi nell'illustrare alla stampa le attività messe in campo nel 2015. 163 le pratiche gestite nel 2015, che hanno riguardato principalmente le attività di verifica del corretto comportamento delle amministrazioni pubbliche di pertinenza regionale, oltre alle questioni inerenti alla tutela ambientale, la sicurezza sociale, il territorio e le sanzioni amministrative. Gli uffici del difensore civico si trovano nel palazzo del Consiglio regionale in via Verrastro a Potenza. I recapiti sono quelli che vedete in sovraimpressione. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.